2. Logica della mente Come mi devo porre nel contatto con i piani superiori di esistenza? Commento Non debbi osservare il fenomeno con la logica della mente, cioè con l'io, ma con la logica della coscienza. Fino a quando osserverai il fenomeno con la logica della mente, non entrerai nel fenomeno.